Scrivere per il proprio strumento è un'attività molto particolare. Su questo aspetto si incentrava la domanda che ho posto ad Andrea Benedetto, che è sì un compositore ma è anche un clarinettista di solida formazione, che per l'occasione si è trovata a dover scrivere un pezzo per clarinetto. In quanto compositori noi siamo naturalmente tenuti a conoscere in maniera piuttosto approfondita le tecniche, i modi di produzione sonora dei diversi strumenti, anche i modi più recenti, le cosiddette tecniche stese. Aspetti che questi diventano un po' secondari perché dati per scontati nel momento in cui ci ritroviamo a scrivere io un pezzo per chitarra o Andrea un pezzo per clarinetto, perché tutti quegli aspetti fanno parte della nostra più profonda formazione musicale, sono carne della nostra carne oramai. Tuttavia ci si pone di fronte un pericolo notevole, cioè quello di adagiarsi in maniera un po' troppo passiva e in maniera anche molto acritica direi sui cosiddetti cliché che caratterizzano naturalmente la formazione di qualsiasi strumentista che alla fine è comunque anche il risultato di automatismi, di tic e di vizi con i quali noi compositori dobbiamo fare i conti naturalmente, il che non significa aggirarli a tutti i costi, significa anche magari ragionarli, farli propri e riportarli sotto una nuova luce. Andrea in questo senso ha operato a mio parere in modo molto intelligente perché è riuscito a creare sì un oggetto perfettamente clarinettistico, portatore comunque di valori musicali che vanno ben oltre, ecco, il semplice bel suonare, il clarinetto, no? Mi vengono in mente gli esempi di Britten però, un Britten che da grandissimo compositore, da eccellente pianista, scrisse musica pianistica del tutto marginale nel suo catalogo. Goffredo Petrassi, grande compositore di formazione organistica, mai scrisse un brano per organo, forse perché si è rese conto di non riuscire a superare quelli che erano gli ostacoli, che i luoghi comuni del suo strumento gli offrivano. Mi tiene anche in mente però la figura di Tristan Murail, grande compositore contemporaneo, che scrisse a metà degli anni 70 un brano intitolato Tellur per chitarra, lui, attenzione, non chitarrista, che però scoprì in maniera molto intelligente e acuta un mondo sonoro che si era sempre celato al di sotto delle dita dei chitarristi, che però forse in maniera anche un po' tusa non erano mai riusciti a portare a galla, e ci è voluto invece l'apporto di un compositore non chitarrista per svelare un mondo sonoro assolutamente inedito, espressivissimo e dalle potenzialità infinite. Quindi io credo che ancora oggi questo particolare ambito, cioè lo scrivere, un brano per il proprio strumento, offra delle problematiche e delle potenzialità assolutamente eccitanti, e penso sia ancora un gioco che valga assolutamente la pena affrontare.